Turosottile nasce a Decireale nel 1934, segno zodiacale, pesci con ascendente acquario, altezza 1,69 m. Ha studiato poco ma bene al liceo classico, pittore, scenografo, commediografo, poeta, autore fecondo di mille articoli mai scritti. Non ha potuto scrivere il Fumattia Pascal e Cent'anni di solitudine perché altri lo hanno fatto prima di lui. Non ama Freud, non ha scritto libri di poesie, non ha fatto la resistenza. I suoi poeti e scrittori preferiti sono Teofilo da Falengo, Boccaccio, Cecco Angiolieri, Laretino, Domenico Tempio, Labate Meli, Olindo Guerrini, Luigi Pirandello e Vito Rivillo. Ha studiato in Roma via della Torba 18, telefono fax 06 4512 746, riceve per appuntamento. E' chiaramente ironico, si vede, si vede. A mio avviso il pittore è colui il quale dipinge anche benissimo, che si mette davanti a un paesaggio, lo riproduce perfettamente con i toni giusti. Quello è il pittore, può essere un grande pittore, ma può non essere un artista. L'artista secondo me è diverso, l'artista è colui il quale aggiunge a quello che fa il pittore, aggiunge qualcosa di suo, che lo trasforma, che lo modifica. Bisogna nascere con questo input, né i movimenti, né la gestualità, né il ragionamento, deve essere un uomo libero, un uomo diverso, non nel senso moderno. Questo è l'artista, colui che aggiunge una parola in più a tutto ciò che fa in arte. Io penso di aver fatto delle cose importanti, non solo la scoperta della ria di Fronovra nello spettro solare, non dico lo stesso uso dei materiali diversi. Chi l'ha detto che si deve dipingere per forza su quella tela sulla quale dipingevano gli artisti del 400, del 500, del 200? Oggi siamo nel 2000 e io penso che un artista è tale se lascia l'impronta del periodo in cui viviamo. Penso che si può salvare l'arte, non la bellezza, perché la bellezza è soggettiva. Ognuno di noi può vedere la bellezza in qualcosa, dopo un altro lavoro non la vede così bella. Invece l'arte, l'arte è vera, è sempre bella. Non credo nell'ispirazione, non credo nel pathos e non sono l'impiegato del catastro o di un altro posto qualsiasi. Io lavoro quando voglio di lavorare e non aspetto che viene nessuna ispirazione. io non credo nella folgorazione che dice ho fatto il capolavoro. Non ci credo. Io lavoro sistematicamente perché mi devo sistemare le cose prima di cominciare a lavorare, quello è un lavoro che devo fare, ma il resto non lo trovo un lavoro. Io non l'ho mai chiamato un lavoro. C'è stato un artista, una volta eravamo a cena anche a casa di amici, che diceva che per fare un'opera giusta, un'opera buona, ci si doveva macerare dentro, soffrire. Ma se io soffro non posso fare un'opera felice, un'opera che può essere bellissima per gli altri, che può essere bella per gli altri. Io devo stare bene, io devo essere dentro di me felice. E allora forse esprimerò quella stessa cosa sull'opera. Non sono mai stato sulla Luna e i miei cosmopaisaggi sono nati per caso. Mi sembra che fosse Picasso che diceva io non cerco, trovo. E io ho trovato questa cosa. Ho posato un pezzo di polistrolo espanzo sul tavolo e si vede che era caduto dell'olio di lino sotto e il polistrolo era bucato, scavato e togliendo questo è rimasto il grumo di olio di lino sopra. Ho elaborato questa cosa e l'ho portata su tela con una tecnica semplicissima. Io ho reso, lavoravo in orizzontale, ho reso questa tela una vaschetta mettendo del legno tutto attorno, una cornice più alta di un centimetro della tela. Dipingevo di un unico colore la tela e passavo della cera. Dopo di che lavoravo su una lastra di polistrolo espanso, disegnando in grandi linee le macchie più grosse e le macchie più piccole, ma soprattutto quelle più grosse e quelle con un po' di diluvimento della nitro, diluivo, passata la sopra si corrodeva, quindi creavo un po' delle depressioni, riempivo questa vaschetta di olio di dolino crudo e si mettevo sopra questo polistrolo espanso. L'olio slittava con la pressione, slittava sulla superficie e andava a riempire il vuoto del polistrolo espanso, in parte si versava dai lati. Dopo un paio di giorni toglievo il polistrolo, restavano i grumi e su questi grumi si creava un contatto con l'aria, si creava una pellicola abbastanza resistente sulla quale io potevo dipingere. Da un lato spruzzavo i colori bianchi o chiari, dall'altro lato il colore scuro e ecco che ho ottenuto il rievo. Questo ripetere la crosta lunare, che sono stati apprezzati dal pubblico e dalla critica, tanto che Filiberto Menna, un grande critico d'arte di quegli anni, li ha definiti ipermofantastico. Sono andato in giro per il mondo, ho girato molto per deporto e per lavoro. Sono andato a vedere le sei scuole russe di icone, ho lavorato in una bottega a Corgopol per apprendere proprio la missione dell'oro, queste cose, come si facevano realmente le icone. Poi la cosa bella che mi è piaciuto fare, fermarmi a lavorare, è quella di costruire, partire dal legno grezzo e arrivare all'opera completa. Quella è stata un'esperienza bellissima. Ho imparato tante cose che magari cercando su qualche libro avrei potuto trovare anche qua, ma non mi sembrava fosse importante questo. Invece là ho appreso molte cose. Sul Perito Moreno questo ghiacciaio è enorme, ho visto la trasparenza degli azzurri, i bianchi, tutte queste cose. Nel Mato Grosso ho un grande studio sulla natura, studio dei verdi, che sono difficilissimi, almeno per me è un colore ostico il verde. Lì ho avuto dalla natura una grande ispirazione, una grande lezione soprattutto. Io ho dentro dei colori della mia Sicilia, dove c'è un cielo che si può toccare con le dita, irripetibile, dove ci sono dei colori che mi prendono. Io tutte le volte che vado in Sicilia è sempre, anche se ci vado spesso, è sempre un'emozione grandissima. per me la Sicilia non è una regione, è uno stato d'animo. Me la sento dentro, quindi tutti i colori della Sicilia, che ne ha tanti, il Policroma, me le porto dentro sempre e quindi le trasmetto nelle mie opere. Raramente ho delle opere più pacate, che sono un po' più cercate, un po' più ricercate. Ho visto il mondo, si può dire veramente che manca l'India e qualche poca altra cosa ancora. La Sicilia con tutto quello che c'è in Sicilia non la ritrovo da nessuna parte. Ci sono delle cose bellissime per questo, per quell'altro, però non tutti insieme, proprio tutte come se fossero cadute dal creatore. Gli fossero cadute tutte le cose improvvisamente per terra e sono arrivate tutti là. La Sicilia, l'ho detto prima, è uno stato d'animo. I profumi della Sicilia. I profumi della Sicilia io vorrei metterli nei miei quadri, è una cosa che non sono ancora riuscito a fare, ma ci proverò. Una volta mi hanno fatto una caricatura, nella prima mostra che ho fatto mia personale a Messina, c'era un caricaturista, che vedeva quelle cose, che ha fatto una caricatura che era così. Un quadro con dipinte del baccalà secco. Io da un lato e due signori, un signore e una signora dall'altro lato. E la signora mi diceva, quando è bello questo quadro, è così preciso che si sente anche l'odore nel baccalà. E io ho risposto, certo, l'ho dipinto con olio di fegato di merluzzo. Andy Warhol dice che è tutto davanti al quadro, quindi si riferisce a ciò che lui dipinge, alla superficie del quadro, alle pellicola del colore, sta lì. Beuys ha un pensiero diverso, Beuys dice che sta tutto dietro il quadro, cioè oltre il quadro, cioè nel pensiero. Lui dipinge una cosa, ma il pensiero è un altro. C'è un pensiero filosofico, il concettuale. E io sto in mezzo e c'era questo proposito del concettuale e di questa filosofia Hegel che diceva che prima o poi l'arte sarebbe stata assorbita dalla filosofia. Io non sono del tutto d'accordo perché il concettuale che si fa oggi, che molti fanno oggi, con questo concettuale ci si può giocare sopra. I veri concettuali come Man Ray, come Beuys, come tanti altri, come il nostro Paolini, è benvenuto un concettuale intelligente, un concettuale filosofico. Ma nell'altro concettuale c'è tanto, tanto, tanto di poter scambiare una butade, un gioco, uno scherzo, una trovata soprattutto, una trovata e scambiarla per arte. Basta la connivenza di un critico, di un mercante. E là è il caso di dire ma l'arte, la parola arte, con quante zero si scrive. L'arte non è più quella dell'artista seduto accanto al cavalletto che dipinge. Soprattutto l'arte che faccio io, election pending, è movimento, è gestualità, è allontanarsi, avvicinarsi all'opera, è guardare da vicino, guardare da lontano, vedere le prospettive e quindi tutto ciò mi viene vietato dalla mia situazione attuale di salute. Però non mi arrendo, io sono un combattente, io continuo a combattere e continuo a vincere. In questo momento no, non c'è posto per l'arte, anzi viene trascurata. È da sempre, da moltissime attività viene trascurata che non c'è più quell'amore, quella cultura che ci dovrebbe essere, quel seguire le arti, tutte le arti sorelle, la musica, il cinema, il teatro, la scultura, la pittura, tutte, soprattutto le arti visive. Oggi hanno spazio soltanto quegli artisti contemporanei che vengono quotati da mercanti, che vengono acquistati da mercanti. Questi, gli altri, quelli come me che vivono di altre cose, io non ho mai lavorato per vendere, non ho mai fatto la pittura per vendere un quadro. A me interessa fare arte, non vendere arte, non voglio fare il commerciante, io sono un cultore dell'arte, quindi per noi non c'è spazio. Ad Acireale nel 1967 mi sono inventato una rassegna d'arte, una rassegna internazionale di Acireale. Collaborato dall'ottimo prese delle terme avvocato Francesco Grasso Leanza, questa rassegna internazionale di Acireale era diventata il fiore all'occhiello di tutti i critici d'arte, ognuno la voleva fare, tutti volevano, perché era l'unica rassegna che si faceva annualmente, l'unica rassegna grossa che si faceva annualmente. Abbiamo anticipato più volte la Biennale di Venezia, per esempio quando Itolomussa ha fatto la rassegna, mi pare che era un circuito chiuso aperto. Nei saloni della mostra c'erano delle telecamere, dei televisori che si vedevano quello che gli artisti dipingevano, facevano le azioni che facevano là dentro. Ma c'erano anche i televisori fuori nella strada, nelle piazze che ripetevano la stessa cosa, quindi era la prima volta che una mostra usciva, la trans-avanguardia. La trans-avanguardia è nata da Acireale nel 1979, con Chia, Cucchi, Clemente, Palladino e De Maria, portati dal critico d'arte Bonito Oliva, che io avevo scelto per fare la rassegna. Il Bonito Oliva l'anno successivo l'ha portata alla Biennale di Venezia e da qualche anno fa in modo, dice a tutti, lo dice in televisione, lo dice attraverso i giornali che io tengo conservati, che la trans-avanguardia è nata alla Biennale di Venezia nel 1980, quando invece è nata città ad Acireale, nel 1979, vuole dare dei Natali più nobili. Convento all'architettura per caso, perché mi trovavo a Buenos Aires e ho letto che Buenos Aires è una città dove ogni giorno ci sono 50 cose diverse da vedere gratuitamente per giunta e c'era la prima Biennale internazionale di architettura urbanistica e già che l'architettura mi piace e allora sono andato ad assistere ai lavori, a visitare queste cose che avevano fatto tutti gli architetti e c'erano architetti pervenuti da tutto il mondo. Ci sono andati il primo giorno, ci sono tornati l'indomani e così per tutta una settimana ci sono tornati facendo anche amicizia con qualche architetto conosciuto a questi, ho fatto amicizia con Kunso Okada uno dei grandi architetti giapponesi, con Pergolis il capo della struttura di architettura urbanistica di Bogota e altri architetti. Se non che l'ultimo giorno di lavoro il presidente che era l'architetto Edicardo Bergman ha chiesto agli architetti presenti di prendere un foglio e di tracciare in grande linee una possibile Biennale successiva. Sono arrivato al tavolo e ho scritto la mia idea. Cominciando così, non sono un architetto, sono un pittore, quindi sono un artista e quindi mi reputo un operatore estetico. Io traccerei queste linee per la mostra e per la successiva mostra e l'ho consegnata assieme agli altri. siamo andati a pranzo, al ritorno si riaprono i miei lavori e il presidente annuncia che aveva vinto il pittore Ture Sottile per la Biennale successiva. Quindi da quel momento io sono entrato a fare delle organizzazioni della Biennale, anche non essendo un architetto. Una proposta la mia di una osmosi, di un intralassare, di diverse cose, cioè dell'architettura, della pittura, della scultura, della vegetazione. Io voglio far vedere il mio quadro, voglio fermare la gente davanti al mio quadro perché lo possano leggere meglio. E allora anziché mettere il titolo che ha a tenenza del quadro, il paesaggio urbano e ci sono le ciminiere, le cose che si vedono. No, io metto un titolo che ad esempio metto i miei ricordi sono inossidabili. Ecco che il lettore, il visitatore legge il titolo e perché dove sono i ricordi? Perché inossidabili? E allora si mette a guardare meglio il quadro e si accorge e vede tante cose che non aveva visto prima. Però bisognerebbe abituare a leggere l'arte contemporanea facendo proprie le immagini, i segni che ci sono in un quadro, in un'opera. Non si può spiegare un quadro. Io una delle mie ultime mostre, l'ho titolata la mostra al Vittoriano, è migrare al di là del visibile, cioè non fermarsi a quello che c'è davanti al nostro naso, andare oltre, via, cercare oltre. Un'altra cosa che è avvenuta ora, da quando metto questo titolo così, è che la gente si apre, vuole sapere il perché e vuole parlare con l'artista. Ed ecco che la si apre il discorso. Fare cultura è anche questo. Abituare la gente a leggerle opere. Uno che mi viene in mente spessissimo è il grande poeta Alfonso Gatto. Alfonso Gatto stava nel mio studio prima a Via Salaria almeno un paio di volte a settimana e ci mettevamo lì a chiacchierare, a discutere, a sviscerare delle cose bellissime. Si stava benissimo, era uno a cui piacevano le barzellette. E così io ho avuto una buona frequentazione a partire da lui, ma anche prima, anni prima, ad Acireale con Quasima con i poeti. I poeti di oggi ci conosciamo tutti e ho realizzato un'opera che si chiama Corpo a Corpo, Ture Sottile e i poeti, che ne esiste ancora il catalogo, è abbastanza bello. Dove ho fatto un'operazione culturale dando a trenta poeti delle mie guasce, dei miei acquerelli e loro hanno scritto una loro poesia inedita, scritta di loro pugno nelle trame della mia pittura. C'è il poeta che si è ritagliato, un angolino l'ha scritta tutta da una parte, c'è chi l'ha scritta tutta attorno per non violare il mio... C'è invece chi lo ha violato tutto, lo ha coperto con le sue parole, tutto... Quindi un'operazione secondo me bellissima, che ha avuto un successo questa mostra straordinaria. Ho fatto molte cose che... delle boutade, delle perforazioni, come si possono chiamare, delle dissacrazioni. Per esempio una è questa, d'accordo con questo Quarta che ha scritto questo libro, Carolè non prendiamoci per il culo, nella sua galleria d'arco. Si è fatta una volta una mostra per dimostrare che i critici non andavano a vedere le mostre di tanti artisti che si facevano, ma andavano sicuramente a vedere le mostre degli artisti già consacrati. E allora abbiamo fatto una mostra di questo tipo. Intanto appena entravano nella galleria sono venuti, venivano fotografati. C'era un manifesto che diceva, espongo, cappello, fontana, burri, sughi, pomodoro, tutti funi, tutti artisti gentilini. Ebbene, si entrava in galleria ma non c'erano le opere. Noi abbiamo esposto, erano tutte fontana e c'era una fontanella. Burri, c'erano i parenti di burro posate là. Uncini, c'erano tutti questi uncini più grandi, più piccoli. Funi, c'erano delle corde posate là e così via. Un cappello, un cappello posato là. Mi hanno invitato a Catania per fare una mostra in una galleria. Chi mi invitava a fare questa mostra era una persona che mi aveva sempre osteggiato quando mi trovavo in Sicilia. E allora mi hanno invitato, sono venuto a Roma. Sì, perché si sente la necessità di una tua mostra a Catania, sai così, c'è una nuova galleria. Dico bene, facciamo una mostra. Ma non sapevano loro le cose che io stavo facendo in quel momento. Mando a quella mostra, si inaugura la mostra con una ventina di quadri perfettamente presi dal telaio bianco, la tela bianca così come era stata comprata, solo che al centro della tela con i trasferibili, le avevo scritte in ognuno, opera del futuro. E ho esposto quelle opere. Anche questa volta hanno detto, sì però tu hai fatto del concettuale senza volerlo. Sì, hanno ragione, ma io l'ho fatto con quell'intento. E se loro avessero letto bene e guardato bene il catalogo, avrebbero dovuto capirlo subito. Perché ho una mia fotografia, io sono un narcisista incredibile, c'è sempre una fotografia che circola nei miei cataloghi. Ho messo una fotografia con i piedi accavallati così e venivo ritratto attraverso i piedi. Quindi si vedevano questi grandi piedi in faccia in primo piano. Lo dovevano capire da questo, ma non ci sono arrivati. Quindi mi piace fare degli scherzi, però negli scherzi intelligenti. Ho fatto un quadro simile dipingendo degli alberi, una donna nuda, rossa. E poi al posto del cestino, del cesto con le vivande, ho messo tutte le sacchette di spazzatura buttate là. E in primo piano mi sono seduto io, come è seduto il personaggio con il cappello. E ho messo questo quadro grandissimo, era un quadro molto grande, in una mostra che ho fatto a Faleri Novi. C'era la stanza, c'era la spazzatura dipinta, i sacchetti dipinti. E poi c'era la stanza piena di spazzatura vera, di sacchetti chiusi, che sembrava una spazzatura con altre cose in mezzo, comprese alcuni libri di qualche critico. Un giorno, qualche giorno dopo l'inaugurazione, entra in questa galleria un cane, un cagnolino, cammina, 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 se ne va in mezzo a questa spazzatura e è andata a farmi la pipì sul quadro a un albero del quadro. Un altro aneddoto con un altro gattino è stato quando facevo la mostra, stavano montando la mostra antologica che ho fatto a Viterbo. C'erano ancora dei quadri messi a terra che andavano appesi e uno di questi era il quadro da Holbein. Era un pezzo di tappeto dipinto, ma dipinto così precisamente, con tutti i punti che si vedevano l'uno dopo l'altro, che quel gattino era andato lì a farsi le unghie e grattava e mi ha graffiato il quadro, che l'ho lasciato così, non restaurato perché voglio lasciare il fatto avvenuto. Diverse volte sono capitate queste cose. Sarò breve. Ho finito, grazie. Grazie.